In terreno fix, in gesto di 4.0, sono neologismi ma non solo, sono delle sfide che noi dobbiamo affrontare. La cosa molto interessante è che attraverso una visione, se vogliamo anche unistica, più prospettica, di quelle che sono le tecnologie che in qualche modo sono incluse all'interno di questo neologismo, di queste nuove frasi, di queste nuove parole, buzzword, diventa importante capire come possiamo applicarle. Per fare ciò abbiamo pensato quest'anno di invitare il Politecnico di Milano, nella persona del professor Giovanni Miragliotta. Vi voglio dare alcune informazioni sul background, in quanto è direttore di alcuni osservatori del Politecnico di Milano, tra cui quello sull'Artificial Intelligence e anche l'Industry 4.0 ed anche Internet of Things. Ed è responsabile delle risorse e dei progetti del IoT Lab, un centro di ricerca per lo sviluppo di applicazioni nell'ambito dell'interno fix. Quindi ho il mio piacere e benvenuto di invitare il professor Miragliotta, del Politecnico di Milano. Grazie. 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 Grazie.